Eccoci qua. Allora cominciamo, tanto siamo puntualissimi, dai, cinque minuti. Allora, buonasera e benvenuti, benvenuti virtualmente alla Biblioteca delle Oblate di Chirenze. Oggi, in questa bella ricorrenza appunto del nostro Dante D, parleremo di viaggi, di questo viaggio meraviglioso di Dante, ma anche del viaggio di Marco Polo. E ne parliamo con due professori, parliamo con il professor Giuseppe Mussardo, che è professore ordinario di fisica teorica alla Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste. E ne parliamo con Gaspare Polizzi, che invece è docente di pedagogia generale e sociale presso l'Università di Pisa. Insieme appunto faremo, insieme a loro faremo questo viaggio, e vi anticipo già, che poi è previsto per giugno, l'uscita editoriale proprio del Traccello e Terra, in viaggio con Dante Alighieri e Marco Polo, che sarà edito appunto da Dedalo. Io a questo punto mi oscuro, chiedo ovviamente a tutti i partecipanti, possibilmente di tenere l'audio chiuso, se volete il video invece potete tenerlo aperto. Se avete delle domande vi chiederei di riservarle alla fine dell'incontro. Quindi io lascio la parola al professor Mussardo e ci vediamo poi a fine incontro. Grazie. Grazie, grazie. Vedete lo schermo? Si vede? Ok, perfetto. Bene, oggi parliamo appunto tra Cielo e Terra, in viaggio con Dante Alighieri e Marco Polo. Allora, fatemi cominciare in una maniera forse inusuale rispetto alla letteratura dantesca, che è quella... scusate un attimo, devo... Sì, faremo cominciare in maniera un po' inusuale rispetto magari al solco solito della letteratura, della critica dantesca, partendo da un valentissimo matematico di origine polacca, Mark Katz, che è stato un grande studioso delle leggi aleatorie e della teoria della probabilità. Lui ha scritto un bellissimo... una bellissima autobiografia, Gli enigmi del caso, in cui si avventurava nel definire due tipi di geni, quelli che lui chiamò i geni ordinari e gli stregoni. Allora, secondo Mark Katz, il genio ordinario è come uno di noi e noi potremmo essere come lui se solo fossimo molte volte più bravi. Cioè non vi è nessun mistero su come lavora la sua mente. Il risultato... una volta che vediamo il risultato sentiamo che sicuramente anche noi saremmo stati in grado di giungervi se solo avessimo lavorato un po' di più. Ma per gli stregoni il discorso è completamente diverso. Gli stregoni vivono semplicemente in un altro mondo e i loro processi mentali ci sono completamente incomprensibili. Cioè potremmo capire il risultato finale, ma come vi siamo pervenuti resterà sempre un mistero. Era questo che diceva. Ora, per corroborare questa tua tesi, quindi Mark Katz portava... Non riesco ad andare avanti con lo schermo. Guarda un attimo che... Per portare avanti questa sua tesi, lui faceva due esempi. Allora, come genio ordinario lui esibiva Hans Bete, che forse non dirà molto ai più, ma Hans Bete è stato un fisico nucleare che ha scoperto come funzionano il Sole e le nostre stelle ed è stato anche il capo della divisione teorica del progetto Manhattan. Mentre come esempio di stregone, lui portava il caso di Richard Feynman, famosissimo fisico che con una serie di stregonerie ha dato luogo alla comprensione di tutti i fenomeni della materia su scala microscopica, quale per esempio anche le leggi dei quark e tutto quello che succede nel campo e le particelle elementari. Ora, se noi volessimo trasporre queste categorie nel caso del 300, beh, diciamo, il genio ordinario è sicuramente il Marco Polo e lo stregone assoluto, in senso assoluto, è assolutamente il Dante Alighieri. Il genio ordinario, ricordiamo, che è quello che non si accontenta di scoprire il mondo come funziona, vuole assolutamente crearne uno tutto suo. Ora, entrambi sono stati dei grandi viaggiatori del mondo e della mente. Marco Polo ci ha raccontato delle stregonerie che venivano dai lontanissimi luoghi di frontiera dell'Asia medievale, in un mondo sempre sospeso tra realtà e leggenda, salamandri che vivevano nel fuoco, frecce che si fermavano in aria, montagne che si muovevano e così via, e il suo è stato un grandissimo viaggio, un viaggio fatto per decine di migliaia di chilometri, che lo portarono da Venezia fino a Campa Lucca, a Pechino, è sulla via indietro, diciamo sulla via di ritorno, su questo poi ci addentreremo nel seguito di questa chiacchierata, e il suo è sempre stato uno sguardo, quasi quello di un fotografo di National Geographic. Cioè lui ha annotato delle cose senza dare nessun giudizio. Cioè lui fotografava una situazione e, diciamo, nelle varie ragnatele di cammelliere, di sentieri nell'Asia, con tutta una serie di situazioni anche sociali di questi villaggi, molto strane per un occhio medievale, per un occhio di uno che veniva da una realtà cattolica, anche se vogliamo, cristiana, il Marco Polo in realtà era un uomo di mondo, un uomo veramente disincantato, non si permetteva di dare giudizi, infatti ci ha lasciato le pagine bellissime di una grande libertà. E la commedia sappiamo che invece è un altro viaggio, un viaggio assolutamente fatto da un argonauta, su terre sconosciute. Beh, entrambi sicuramente sono stati mossi proprio dal pungolo del sapere, nel voler andare sempre avanti, ed entrambe le opere, come sappiamo, sono proprio un bazar a pieno zeppo di tutte le possibili pietre del creato, se vogliamo, di tutte le più grandi, anche idee, di tutte le più grandi sorprese, da quelle più vili e anche le più nobili. E di questi scrigni non si finisce mai di aprire per trovare cose nuove, diciamo. Un'altra, c'è una caratteristica anche abbastanza sorprendente che lega i due testi, proprio l'opera in sé, che di entrambi i testi non si conosce l'originale. Non esiste né l'originale del milione, né tantomeno, come sappiamo, l'originale della Divina Commedia. Ora, del milione la situazione è ancora più paradossale, perché del milione ci sono circa 150 versioni che anche cozzano l'una con l'altra. Cioè, una versione contiene una storia, un'altra non ce l'ha, un'altra è una versione scritta in franco-veneziano, un'altra è scritta in toscano. Tra parentesi, una delle copie della versione toscana è proprio conservata alla Biblioteca Nazionale di Firenze, mentre una delle copie più belle è conservata alla Biblioteca Nazionale di Francia e fu commissionata proprio da Giovanni Le Bande Nere in regalo e contiene delle immagini miniate assolutamente sorprendenti, assolutamente fantastiche. e la grande fortuna del Marco Polo è stata chiaramente il Ramusio, editore veneziano del Cinquecento, che nel suo libro, dove raccoglieva tutta una serie di viaggi avvenuti fino al Cinquecento, diede grande spazio e grande credito al Marco Polo e al milione, alimentandone anche le leggende. Bene, diciamo, della Divina Commedia, come dicevo, non si conosce l'originale, le prime stampe sono molto dopo, le prime copie sono dovute ai figli, poi ci sono le tre copie del Boccaccio e così via, quindi questa è una storia molto carina, molto bella che richiederebbe una cosa a sé. Ora, sì, si accennava col Gasper, abbiamo scritto questo libro, Tra Cielo e Terra, che uscirà a giugno con la Dedalo, in cui appunto si ripercorre in qualche modo il fascino di questi due viaggi proprio sulla Terra, sugli angoli più remote della Terra, ma anche sugli angoli più remote della mente. E quello di Dante è un sogno onirico che abbraccia un po' tutto e abbraccia un po' tutte le nostre passioni e tutte le nostre, diciamo, incarnano in un colpo solo tutta la filosofia, la storia, tutte le domande che erano di quell'epoca. Ora, per inquadrare un po' questi due viaggiatori, questi due viandanti, penso convenga fare un minimo punto sul periodo, perché c'è una cosa molto carina da sottolineare, siamo nel 200, nel periodo dal 200 al 300, in Italia si stanno formando le prime realtà comunali, ma Venezia e Firenze incarnano questo nuovo governo cittadino in due modi completamente diversi, ma diametralmente diversi, che rovineranno la vita a Dante, mentre favoriranno in maniera estremamente efficiente tutti i commerci e tutte le ricchezze di Venezia. Anche Firenze ovviamente farà i soldi, come vedremo un attimo, però dal punto di vista proprio dell'efficienza e del benessere dei cittadini, diciamo che le due realtà sono completamente diverse. Bene, farò vedere, ora accompagneremo il racconto con una serie di filmati tratti essenzialmente da quel bellissimo documentario di Monaldo di tanti anni fa sul Marco Polo, è un documentario bellissimo della RAI, e ho tratto alcune, alcuni spezzoni da quella, da quella serie dell'epoca. Marco Polo era nato appunto a Venezia, col Dante Alighieri si passano undici anni, essenzialmente, era nato e cresciuto a Venezia, mentre il padre e lo zio erano in viaggio, erano già andati verso l'Oriente, e lui era cresciuto senza mai conoscere il padre. Beh, Venezia è la padre dei mercanti, banchieri, navigatori, nobili, artigiani, tutta gente di ingegno, di intraprendenza che aveva in qualche modo iniziato a conquistare il mondo con il mare, sul mare, andando per mare, e la gente partecipava attivamente allo sviluppo della città e alla politica, la giustizia e tutte le attività legate a queste non erano esercitate a vita, ma c'era un principio rotazionale di rappresentanti. Era insomma cominciato un periodo che poi porterà al rinascimento. Ora, la figura chiave della politica veneziana è il doge. Cioè, i veneziani hanno subito trovato il modo di darsi un sistema politico che era finalizzato a ottimizzare tutto quello che legava il commercio e tutto quello che legava il predominio del mare. Quindi il doge aveva la responsabilità di rincarnare la Repubblica, ma la sua autorità era sapientemente limitata da un sistema di controlli incrociati molto, molto, molto sottili. Innanzitutto anche l'elezione del doge veniva in maniera molto casuale e una volta che il doge era il rappresentante se vogliamo supremo un po' come il Presidente della Repubblica cioè una carica di altissimo valore ma di poco potere perché il potere era concentrato nell'Assemblea dei Nobili il maggiore consiglio dove non più di duemila veneziani eleggevano gli organi di governo e questa istituzione però era a sua volta soggetta al controllo del Consiglio dei Dieci e quindi si diceva che i consiglieri potevano fare molte cose senza il doge ma che il doge non potesse fare nulla senza di loro quindi questo questo accesso alle cariche politiche seriamente limitato e molto controllato è quello che farà di Venezia la la Repubblica che sappiamo tra parentesi c'è una storia un punto cruciale di come Venezia a un certo punto passa dalla sua storia lagunare a una storia di ricchezze ed è la famosa crociata l'ultima crociata la più sgangherata la più bizzarra di tutte quando Venezia si accolla il passaggio dei crociati e di un numero infinito anche di bestie di animali con queste sapendo bene che i crociati non potranno mai pagare questa somma che loro avevano promesso e infatti quando si presentano per andare in crociata non hanno questi questi soldi allora a questo punto Venezia si fa carico della crociata e non va in Terra Santa ma dirige tutta questa flotta prima contro Zara conquista Zara perché aveva dei conti da regolare nell'Adriatico e poi a un certo punto dirige tutta questa massa di persone su Costantinopoli perché aveva un sassolino nella scarpa abbastanza grosso che erano i genovesi e anche i bizantini e a quel punto non si fa scrupoli cioè dalla Terra Santa va su due città cristiane a quel punto conquista Costantinopoli la saccheggia e la prende tutto fa una razzia di tutte le opere che erano a Costantinopoli tra parentesi cinicamente possiamo dire che la maniera come abbiamo conservato un po' questi tesori perché altre conquiste semplicemente fondevano tutto loro che gli altri predoni diciamo avevano riazziato precedentemente questo per esempio è l'origine dell'acqua e riga dei cavalli di San Marco che è a Bonizio Firenze ha tutta un'altra storia qua Firenze all'epoca nel 200 non era come la Firenze di oggi assomigliava forse più a San Gimignano c'era una città piena di torri una città che aveva una mura una certa un cerchio di mura che poi fu fu allargato per per tenere contro l'aumento della popolazione ed è una città che aveva dei conti da regolare con tutta una serie di castellani che erano nell'entourage di Firenze che facevano prevalere i loro privilegi diciamo quindi Firenze si butta in una serie di battaglie in cui via via espugna i vari castelli regola i conti un po' con tutto quello che limitava le proprie capacità espansive e qua inizia un po' a prendere corpo il diciamo gli organi comunali inizia a prendere corpo un po' una vita cittadina rispetto alla vita delle campagne ora il punto di svolta di Firenze è la lana cioè a un certo punto la lana che prima era in qualche modo un'attività quasi artigianale limitata alle case o se vogliamo ai conventi e a un certo punto inizia ad avere un boom un boom è uno scambio internazionale pazzesco quindi si deve attrezzare nella produzione nell'acquisto nella produzione e anche ovviamente nella vendita e la lana una volta acquisita inizia ad avere tutta una lavorazione che diventa sempre più industriale quindi viene cardata vengono usati dei cardi secchi poi il telaio poi viene alla fine c'è l'ordito sul diciamo il tessuto finale e alla fine veniva anche colorato tutto ciò ecco alla fine i tessuti fiorentini diventarono ricercatissimi perché iniziò proprio una moda dei costumi fiorentini che si imposero in maniera strabiliante su tutto il mercato internazionale che andava dai chierici quindi tutta tutta la la il mondo del clero tutto il mondo della chiesa ma andava anche al mondo dei monarchi e dei monarchi di tutta di tutta Europa quindi a quel punto la città cambia completamente volto inizia a diventare inizia ad arrivare in città una valanga di quattrini il maledetto fiore come dice come dice Dante e questo cambia completamente il tessuto urbano della città e lo cambia in maniera radicale diciamo qua inizia anche la finanza quindi non c'è solo una produzione economica di base c'è anche un aspetto finanziario che inizia a prendere piede inizia a prendere piede in maniera tumultuosa e nascono le arti quindi le corporazioni gli artigiani cominciano a far valere tutta la loro professionalità e si organizzano sempre di più contro i magnati contro i cavalieri contro la società del passato che era legata invece ad altri tipi di beni era la terra era l'uso delle armi e così via ora sullo sfondo di tutto ciò c'è la lotta che contrapporrà per tantissimo tempo il papato e i due imperi il papato e l'impero nel senso vero e proprio quindi una lotta senza quartiere che nell'inizio del 200 la figura chiave proprio l'anima nera agli occhi dei papi del del potere temporale incarnato da Federico II e un po' da tutti i suoi discendenti e in particolare nel secolo che stiamo parlando intorno al 1300 da Filippo il Bello e invece l'aspetto proprio del potere temporale della chiesa incarnato dalla figura massima che è Boniface VIII forse anche un po' in anticipo sui tempi perché dovrebbe essere il borgia di anni a venire per qualità di personalità per fini per una serie di trucchi e come anche l'abilità di muoversi sullo scacchiere politico dell'intera Europa ecco qua nasce ovviamente tutta la storia che intortiglia fortemente la vita di Firenze rispetto a Venezia perché nascono delle rotte intestine che Venezia non ha Venezia ha dei nemici esterni che Bisanzio i Genovesi gli Arabi ma non ha nemici interni Firenze invece è completamente attorcigliata su se stessa con una serie di nemici interni manipolati abilmente da quelli esterni che siano il Papa l'imperatore o chi per loro qui ci sono i Guelfi e i Ghibellini una cosa incomprensibile e più infatti i Veneziani pensavano che Guelfi e Ghibellini fossero i nomi di due fratelli che erano in lotta tra di loro non capivano neanche l'origine di queste lotte ma queste qua sappiamo che sono state dirompenti hanno avuto figure di altissimo di altissimo spessore il Farenata degli Uberti ricordato dal Dante Alighieri Ghibellino per eccellenza ma una volta debellati Ghibellini ovviamente si è splittato l'atomo cioè i Guelfi rimasti a loro volta si sono divisi in Guelfi bianchi e Guelfi neri e sono andati avanti e potevano andare avanti all'infinito diciamo quindi questa lotta senza quartiere che divide sempre più le famiglie interne di Firenze li arma l'uno contro gli altri e dà luogo a queste consorterie di cui alla fine all'epoca di Dante abbiamo i Guelfi bianchi e i Guelfi neri con la figura cardine che è il Corso Donati su cui tra parentesi è uscito recentemente un bellissimo libro proprio da una storica fiorentina il Barone che mostro qui quindi il Corso Donati diventa l'acerrimo nemico di Dante diciamo uno dei tanti ovviamente della consorteria visto che Dante tiene per i cerchi tutte e due famiglie che vivono nello stesso quartiere e che non hanno remore ad ammazzarsi a vicende a dar luogo appunto a una tensione urbana notevolissima che alla fine della fiera stritolò Dante e la vostra inserlesilio ecco a questo punto io lascerei dopo l'ultima parentesi lascerei dopo la parola a Gaspare volevo semplicemente dire attenzione a fare i provinciali cioè è chiaro che l'Italia per noi ovviamente è il centro del mondo è la storia che amiamo che conosciamo ma vorrei sottolineare che negli stessi anni in cui avveniva tutto ciò nelle estreme negli estremi angoli dell'Asia veniva fuori un popolo dalle lande proprio più impensabili anche più estreme che erano quelle della Mongolia dalle altopiane della Mongolia veniva su un popolo agguernitissimo dei soldati di un'abilità straordinaria con l'arco e soprattutto con i cavalli e soprattutto nell'usare l'arco stando a cavallo che in giro di un ventennio sotto Gengis Khan conquistarono l'impero più grande che sia mai esistito quindi conquistarono un po' tutta l'Asia ed è un impero con cui si dovrà fare i conti dopo ed è anche un impero che inizieremo a conoscere proprio per quella Pax Mongolica che imposero e che consentì poi al Polo di andare a questi estremi del nostro pianeta ecco a questo punto dicevo lascerei la parola a a Gaspere per illustrarci tutta una serie di spunti di temi legati alla commedia quindi io finisco il stop sharing e do la parola appunto a Gaspere bene grazie e condivido anch'io lo schermo così vedete qualche slide e ora parliamo del viaggio perché Giuseppe ha fatto un po' un quadro molto bello del del contesto storico e anche geografico in cui si trovano Dante e Marco e bisogna dire che entrambi fanno due viaggi assolutamente straordinari il viaggio di Dante è quello forse un po' più noto almeno naturalmente oggi è quello più celebrato e questo viaggio di Dante non a caso inizia almeno secondo la tradizione più accreditata proprio nella notte fra il 24 e il 25 marzo quindi è questo il giorno che si dedica a Dante il Dante vorrei ricordare che pochi hanno sottolineato che questo è anche il compleanno di Venezia i 1600 anni di Venezia sono proprio il 25 almeno sono segnati simbolicamente il 25 marzo del 421 una nascita di Venezia quindi c'è un'altra affinità così simbolica nelle date e sono due viaggi come potete immaginare estremamente diversi io ho voluto iniziare queste poche immagini che che vi farò vedere da una delle foto delle belle foto di Massimo Sestini che come sapete ha presentato Dante nel tempo del lockdown come vedete qui abbiamo un Dante che guarda a una piazza Santa Croce deserta proprio nei giorni in cui il lockdown diciamo imperversava maggiormente sono due viaggi che torniamo un attimo indietro che sono appunto del tutto diversi quello dantesco è ultraterreno è cosmico ha degli aspetti visionari davvero straordinari quello di Marco Polo è molto terreno molto polveroso ma vediamo vediamo soprattutto il viaggio almeno io mi fermo soprattutto sul viaggio di Dante intanto come sappiamo questo viaggio dura una settimana dura una settimana e in una settimana Dante non solo da Gerusalemme va fino al centro della terra dove si trova Lucifero ma poi esce dall'altra parte dell'emisfero nell'emisfero australe trova la montagna del purgatorio ascende alla montagna del purgatorio e da lì arriva fino ai cieli ai dieci cieli all'empirio fino a Dio ora possiamo immaginare che un viaggio di questo tipo in una settimana è assolutamente improponibile è improponibile naturalmente in tutte le condizioni possibili perché va bene che noi possiamo anche considerare che Dante non avesse la precisa cognizione del diametro della terra che è di 12.600 km quindi andare da una parte all'altra della terra in tre giorni quali sono quelli che impiega Dante insomma è impensabile tra l'altro a piedi possiamo credere che la lunghezza che Dante dava a questo viaggio era più ridotta rispetto a quella che riteniamo noi ma in ogni caso diciamo è improponibile un viaggio che a piedi attraversa centinaia di chilometri questo viaggio a piedi come sappiamo quello che avviene nel nell'inferno è il più noto fra tutti insomma non non starei qui a soffermarmi particolarmente su questo lungo viaggio che tutti noi ricordiamo abbiamo letto è un viaggio che attraversa naturalmente tutta la la cultura del Medioevo cristiano un'allegoria del Medioevo cristiano e in fondo a questo a questo viaggio c'è come sapete Lucifero al centro del mondo ma vorrei soffermarmi su un altro viaggio che viene che viene raccontato durante il percorso dantesco che è il folle volo di Ulisse tutti noi ricordiamo le pagine dantesche su Ulisse il canto ventiseiesimo ma ci si dovrebbe domandare e ci siamo domandati appunto perché Dante fa compiere a Ulisse questo viaggio questo ultimo viaggio per seguir virtute e conoscenza verso una una terra incognita ovvero l'emisfera australe verso questo mondo senza gente ecco questo è l'ultimo viaggio di Ulisse tra l'altro Dante è il primo a raccontare questo ultimo viaggio di Ulisse quindi in questo aggiunge qualcosa all'Odissea e alla tradizione diciamo omerica e perché va verso l'emisfera australe in fondo viaggi in terra incognita si erano pensati già nell'antichità sarebbe potuto andare verso l'ultima Thule cioè verso il nord del 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 ghiaccio verso il polo nord dove già gli antichi greci e romani pensavano a viaggi immaginari anche Tacito lo ricorda ma invece va in un mondo verso un mondo senza gente e va verso un mondo senza gente perché questo è il mondo che secondo la tradizione e anche la dogmatica cristiana era un mondo appunto non abitato non abitato da esseri umani e allora fa qualcosa che infrange naturalmente la volontà divina ma è soltanto questo questa motivazione teologica che spinge Dante a fare andare Ulisse verso quel quel mondo tra l'altro come sapete la tempesta poi la proscella che distrugge la nave di Ulisse è proprio dinanzi alla montagna del purgatorio quindi vede quello che poi Dante vedrà quando uscirà dall'inferno ma a nostro avviso bisogna considerare che quel viaggio qualcun altro l'aveva fatto in quegli anni ed era stato Marco Polo anche Marco Polo era andato in un mondo che secondo la tradizione cristiana era senza senza gente e il milione era al tempo in cui Dante scrive già l'inferno molto diffuso e molto noto a Firenze nel 1309 viene fatta una traduzione del del milione in fiorentino diciamo che è tra le più diffuse tra le più ristampate e sicuramente Dante ebbe notizia e lesse il milione e naturalmente Dante non solo possiamo ritenere che lesse il milione ma fu certamente incuriosito dalle dagli aspetti non tanto geografici ma soprattutto astronomici dell'opera di Marco Polo perché questi aspetti astronomici venivano poi sostanziati sostenuti da uno dei più grandi sapienti del suo tempo cioè Pietro D'Abbano Pietro D'Abbano era un matematico un naturalista un astrologo un medico un sapiente medievale come di che univa insomma l'insieme della sapienza medievale come pochi ed era amico di Marco Polo aveva conosciuto Marco Polo e si era interessato di una serie di problemi filosofici che stavano al limite dell'ortodossia tanto è vero che poi fu dichiarato eretico quindi insomma ebbe problemi anche dopo morto fu dissotterrato il corpo e dato diciamo dissolto nel fiume ma qual era il punto che poteva interessare Dante nella sua opera Conciliator Differenziarum Quei Inter Philosophos et Medicus Versantur Pietro D'Abbano poneva tutta una serie di domande di questioni che erano aperte nella teologia tra queste questioni la sessantasettesima è proprio se sia possibile la vita sotto l'equatore ecco una domanda che andava incontro a una problematica che era anche una problematica geografica ma che era innanzitutto una problematica teologica bene secondo secondo Pietro D'Abbano che sosteneva la sua tesi anche sulla base dei racconti di Marco Polo questa vita c'era era possibile e quindi non era vero ciò che sosteneva l'ortodossia cristiana e bene Marco in fondo aveva visto con i propri occhi quello che aveva visto l'Ulisse Dantesco quando tutte le stelle già dall'altro polo vedea la notte il nostro tanto basso che non surgea fuori del marinsuolo ecco le stelle dell'altro polo che vede Ulisse erano le stesse stelle di cui racconta Marco nel suo viaggio racconta che l'isola di Sumatra era così a meridione che non si vedeva la stella polare racconta insomma un cielo che non era il cielo di Dante e che non era il cielo diciamo noto dal nel medioevo e quindi aveva raggiunto e toccato dei luoghi che non dovevano essere raggiunti e toccati e aveva infranto in qualche modo diciamo il divieto divino Ulisse finisce come sappiamo appunto naufrago e Marco Polo finisce nel silenzio cioè Dante non parla di Marco Polo perché diciamo non vuole avallare le sue narrazioni e non parla e diciamo critica la troppa scienza di Pietro D'Avano perché appunto è una scienza eretica ecco tra Marco Polo e Pietro D'Avano c'è un legame che Ulisse che Dante ben conosce in quanto studioso di astronomia in quanto studioso della del mondo celeste e continuiamo il nostro viaggio all'inizio della notte del sabato santo la Dante e Virgilio devono vanno verso l'uscita dall'inferno cioè vanno verso il centro della terra e lì fanno qualcosa che è abbastanza straordinario perché anche qui c'è una visione molto particolare perché questa inversione di marcia cioè loro vanno in una direzione poi devono andare contro la forza di gravità che per gli antichi era massima al centro della terra e quindi girare e andare dall'altra parte della terra con una operazione che è davvero una sequenza filmica quando noi fummo là dove la coscia si volge appunto sul grosso dell'anche lo duca con fatica con angoscia volse la testa ovelli avea le zanchie e aggrappossi al pelco muon che sale sì che in inferno il credea tornare anche si aggrappò al al ai peli del pube di di lucifero per ruotarsi e andare dall'altra parte fuor per lo foro d'un sasso cioè uscire all'estremo posto di Gerusalemme dove si stagliava la montagna del purgatorio e qui inizia un altro viaggio naturalmente un viaggio anche questo a piedi anche questo lento e faticoso che dura anche qui tre giorni e che però è un viaggio in un altro mondo intanto viene invertita la il percorso cioè mentre nell'inferno viaggiavano sempre sulla sinistra nel purgatorio viaggiano sulla destra viaggiano sulla destra e procedono faticosamente su per questa montagna che è altissima che dovrebbe avere secondo l'immagine di Dante quantomeno la stessa grandezza dell'altessa lunghezza che si dà da Gerusalemme al centro della terra e questo viaggio inizia con un cielo azzurro sapete che il primo canto del purgatorio è quello che rappresenta Venere lo bel pianeto che da marconforta faceva tutto ridere l'Oriente velando i pesci che erano in sua scorta e questa immagine scusate qui ecco dopo c'era Venere questa immagine di Venere in cielo nel periodo davanti alla costellazione che oscura la costellazione dei pesci è un'immagine cosmica qui sono le slides che riguardavano ancora Ulisse come vedete la tempesta di Ulisse raccontata da alcuni pittori e qui siamo ancora sulla montagna del purgatorio anche qui immaginaria le stelle dell'altro cielo quella del cielo australe e qui ora finalmente Venere ecco Venere che si presenta a noi molto ravvicinata questo viaggio percorso che inizia nell'antiburgatorio e poi procede sulla montagna ha subito un'immagine un'immagine che è del tutto inconsueta cioè quella delle stelle della croce del sud che sono questo è Pietro Davano scusate ma diciamo mi ero dimenticato di andare un po' avanti nelle slides e questo va bene tutto l'insieme del percorso e qui abbiamo dovremmo avere le stelle sono dietro sono dietro sono dietro le quattro stelle della croce del sud io mi volsi a mandestre posimente all'altro polo e vi di quattro stelle non viste mai che ha la prima gente queste quattro stelle eccole qui queste quattro stelle sono naturalmente hanno un valore allegorico in Dante perché rappresentano le virtù cardinali la prudenza la giustizia la fortezza la temperanza ma che cosa sono queste quattro stelle sono la croce del sud cioè nessuno in occidente le poteva vedere e le avrebbe viste e Dante ne ha conoscenza possiamo pensare che ne abbia conoscenza proprio tramite Pietro Davano e indirettamente tramite Marco Polo perché Pietro Davano addirittura le disegna cioè lascia nel suo conciliato un disegno di questa immagine delle quattro stelle che poi sembrava scrive Pietro Davano una stella a forma di sacco un sacco oppure una stella con una grande coda quindi avevano una incertezza se fosse una cometa o qualcosa del genere ma comunque erano delle stelle che aveva visto Marco Polo che Pietro Davano va discutendo con Marco va proprio a Venezia per sentire direttamente da Marco Polo di questo di questa visione astronomica e che sono presenti anche in una lettera di Giovanni da Monte Corvino che fu un altro un frate francescano che fece questo viaggio un viaggio verso l'Oriente verso la zona australe e che testimoniò molto bene l'esistenza di questa croce del sud cioè riprese in maniera molto precisa questa esistenza quindi qui abbiamo ancora una volta una presenza come dire celata del del mondo australe e del viaggio di Marco Polo senza che ovviamente Dante si esprima favorevolmente rispetto a questo viaggio questo è Pietro Damano che ripeto fu condannato come eretico e qui abbiamo la forma tradizionale della della Divina Commedia no? cioè la forma geografica della Divina Commedia vi faccio notare quel cerchio quei cerchi quei nove cerchi che sono sopra alla fine delle sfere celesti perché di quelle ora parleremo cioè è l'Empireo che è un po' una cosa abbastanza strana dal punto di vista cosmologico e cosmico ecco passiamo ora all'ultimo viaggio il viaggio cosmico appunto in paradiso intanto sappiamo bene che Dante era estremamente vi ho già ricordato alcune delle cognizioni astronomiche di Dante era una delle discipline diciamo nelle quali era più forte abbiamo testimonianza della sua conoscenza della precessione degli equinozi dell'inclinazione dell'eclittica della differenza fra giorno solare e giorno sidereo dell'ostacolo che Mercurio pone per la vicinanza angolare rispetto al sole dell'oscuramento della costellazione dei pesci da parte di Venere l'abbiamo appena visto della croce del sud appunto che abbiamo appena visto quindi sono tutte nozioni commissioni astronomiche che Dante frequentava conosceva di cui aveva molta competenza ma qui c'è qualcosa di diverso in questo viaggio nel paradiso intanto è un viaggio in un altro mondo già l'altro mondo è quello del purgatorio perché mentre il mondo terrestre è fatto come secondo la cosmologia aristotelica dei quattro elementi aria acqua terra e fuoco il mondo del purgatorio e quindi anche quello del paradiso non ha più questi elementi è composto solo di etere l'etere che era questo elemento celeste per eccellenza quindi un solo elemento poi è un mondo già nel purgatorio abbiamo visto un mondo che non è corporeo e visibile ricordate il nel canto secondo il rapporto l'amicizia con il musico casella Dante cerca di abbracciarlo per tre volte ma naturalmente non non abbraccia nulla perché non è corporeo casella e questo mondo già diverso nel purgatorio diventa ancora più particolare diciamo nel paradiso perché perché è un mondo in cui si sperimenta la velocità una velocità che è incrementale che è sempre più alta fino accelerata fino a Dio come fa Dante a viaggiare nel paradiso raggiungendo in un solo giorno perché l'ultimo giorno della settimana santa che secondo la tradizione appunto Dante compie in cui compie questo viaggio in un solo giorno dal paradiso terrestre fino a Dio un viaggio che doveva essere anche dal punto di vista cosmico medievale di molte decine decine di migliaia di chilometri è un viaggio che non può avvenire se non attraverso il transhumanare ecco questo transhumanare è qualcosa di straordinario cioè il transhumanare significa oltrepassare la condizione umana Dante non è più essere umano perché altrimenti non avrebbe potuto più volare in quella direzione con tanta velocità è un oltre uomo ecco non so se Nietzsche si ricordasse di questo quando pensò all'oltre uomo o Gabriele D'Annunzio certo che Dante si presenta come un oltre uomo si presenta come un oltre uomo che fa un volo straordinario grazie naturalmente a Beatrice che lo trascina nell'etere un volo straordinario con una velocità che nessuna nessun nessun uomo avrebbe mai potuto fare ma quello che voglio sottolineare e concludo diciamo questo viaggio è la parte conclusiva di questo viaggio appunto perché qui abbiamo Dante nel mondo della Luna tra l'altro qui ci sono anche delle interessanti riflessioni che potremmo dire osservative sperimentali sulle macchie lunari ma tralascio l'argomento ecco il viaggio si conclude si conclude nell'Empirio ora il problema il problema di Dante cioè noi sappiamo che secondo la successione classica delle sfere concentriche che Dante riprendeva da Tolomeo e da Aristotele abbiamo la Luna Mercurio Venere Sole Marte Giove Saturno le stelle fisse che sono appunto la volta celeste chiusa e poi c'è il primo mobile e poi c'è questo e c'è Dio poi c'è l'Empirio che è circondato dai cori di angelici è il punto divino ora c'è un problema che tutti noi dovremmo dovremmo porci quando guardiamo a questo viaggio beh Dante vive in un mondo che è aristotelico tolemaico greco quindi è un mondo in cui è la terra al centro e al centro della terra c'è guarda caso secondo la tradizione cristiana eh lucifero cioè il mondo del peccato il mondo in cui eh imperneato sul più grande peccatore cioè sul nemico di Dio che è lucifero che sta al centro della terra che sta al centro dell'universo ora non può un cristiano eh far conto eh di questa visione tolemaica e aristotelica eh senza mettere in discussione la centralità di Dio cioè Dio Dio è il centro il centro non può essere la terra il centro deve essere Dio allora come si fa a conciliare la centralità di Dio con la visione tolemaico eh aristotelica e qui c'è davvero un colpo di genio direi di Dante cioè c'è qualche cosa c'è una visione psichedelica che davvero nessun suo contemporaneo avrebbe mai immaginato che noi cominciamo a intravedere ma la intravediamo perché abbiamo degli strumenti per intravederla cioè perché abbiamo degli altri strumenti che Dante invece non aveva quindi la sua è una è una pura visione e qual è questa pura visione? Beh questa pura visione è di vedere un un centro della terra cioè una un mondo un sistema geocentrico che poi viene rivoltato dall'altra parte in un sistema che invece ha il centro Dio ed è quello che Dante racconta con alcune diciamo indicazioni davvero sconcertanti nel ventisettesimo e nel ventottesimo canto del purgatorio per cui che cosa succede? Che nel passaggio dal nono cielo all'Empireo è lì il problema il passaggio verso l'Empireo l'Empireo non può essere una sorta di aureola che sta sopra i cieli non ha nessun senso questa visione tradizionale che abbiamo dell'Empireo l'Empireo deve essere un altro sistema alternativo a quello geocentrico cioè un sistema in cui tutte le sfere dell'universo tolemaico sono capovolte sono capovolte come possono essere capovolte in queste per esempio in questa immagine cioè noi lo possiamo pensare attraverso la curvatura dello spazio se noi immaginiamo la curvatura dello spazio vediamo una geometria sferica e ci mettiamo dentro la sfera e non fuori dalla sfera è come se capovolgessimo la prospettiva come quando si rivolta un guanto come si passa dal convesso al concavo ecco questa è l'immagine che Dante dà di questa tradizionale qui è per esempio la visione tradizionale del Caetani dove appunto c'è questo imperio che sta lì sopra come un cappello sopra le ma che senso ha qui abbiamo non è questo che ci fa vedere il centro il centro di Dio è appunto questo centro qui che vedete alla vostra destra alla mia destra alla vostra destra e che è la parte capovolta della della visione geocentrica che invece Dante aveva aveva indicato precedentemente quindi c'è un capovolgimento di prospettiva che noi con la tradizione diciamo scientifica in particolare geometrica chi conosce la geometria di Riemann sa vedere questa cosa attraverso la geometria di Riemann Dante la vede nella sua mente la vede da grande visionario e non so quanti a suo tempo potevano immaginare appunto un mondo invisibile e incorporeo che incorporasse il gioco di parole incorporasse il mondo corporeo e visibile in un punto poi che è Dio perché il punto è quello in cui si trova Dio e naturalmente come sappiamo poi Dante si ferma davanti a questa visione all'alta possa all'alta fantasia qui manco possa ma già volgea il mio disio e il velle siccome rota chi ugualmente è mossa l'amor che muove il sole e le altre stelle lascio questo viaggio a Giuseppe che continuerà con il viaggio molto terrestre ma molto straordinario anche esso che è quello di Marco Polo grazie grazie Gaspare prova a levare la sì sì farò eccomi ok grazie sì quindi diciamo dal cielo alla terra e in particolare diciamo con 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 due strumenti che con due strumenti per eccellenza medievali l'astrolabio e la bussola l'astrolabio perfezionato dagli arabi è basato sull'astronomia appunto tolemaica Aristotele che citava Gaspare e la bussola pure invenzione cinese ora il Marco Polo probabilmente ha usato l'astrolabio probabilmente ha usato la bussola per il suo viaggio di ritorno però sicuramente ha usato le stelle per andare sempre più oriente verso più oriente adesso volevo fare con voi una piccola carrellata dei luoghi bellissimi visti con gli occhi di Marco che partono da Venezia partono il papà e lo zio sono ritornati da un lungo viaggio hanno trovato la moglie della mamma di Marco Polo che è ormai morta trovano il bimbetto Marco che ormai diventava diciassettenne lo prendono con loro e ripartono alla volta dell'Oriente facendo una prima tappa a Gerusalemme perché il Kublai Khan aveva chiesto espressamente di avere un'ampolla con l'olio sacro di Gerusalemme e aveva chiesto anche l'invio di alcuni saggi per capire la potenza di questa chiesa come mai il Papa era così potente in Oriente era una cosa che lo incuriosiva molto ora con i sapienti non ha molta fortuna perché ne recuperano due i polo ma poi scompaiono alla prima alla prima scaramuccia con i predoni e quindi si avventurano sempre più verso il Medio Oriente iniziando a vedere città sempre più fantastiche iniziando ad addentrarsi sempre più in terre misteriose e terre anche abitate dagli islamici dai musulmani dai saraceni come li chiama passano dall'Armenia qua vedono questa visione straordinaria del monte su cui si era fermata l'arca di Noè proseguono e si avventurano sempre più in questi paesi arabi che era il terzo grande impero all'epoca su cui i cristiani cercavano in ogni modo di sconfiggere infatti qua nascono anche tutta una serie di leggende riprese abilmente in maniera molto affascinante nella narrativa dal Marco Polo che è la leggenda del prete Gianni una dei grandi falsi di tutti i tempi che legge come come se esistesse al di là della barriera del verso oriente questa quinta colonna cristiana in grado di sconfiggere i musulmani e il papa due papi addirittura ci cascano e mandano pure degli emissari per per incontrare questo fantomatico prete Gianni qua il Marco Polo con i suoi con lo zio e col papà si avventurano sempre più nelle terre della Persia raccolgono tutta una serie di leggende legate ai re magi vedono il fuoco del il fuoco l'acqua che arde che il petrolio raccolgono tutta una serie di leggende legate proprio al mistero dei luoghi cioè anche al contrasto che separava i musulmani dai cristiani vicende che coinvolgono anche i mongoli in maniera notevole perché si presentano i mongoli come i nemici dei musulmani in grado di sconfiggerli la loro prima idea è quella di raggiungere il Qatai via terra quindi vanno verso Ormuz cioè verso Bassora verso il lungo l'Arabia diciamo di fronte all'Arabia Saudita e qua giungono a Ormuz ma da veneziani si rendono conto che quelle non sono barche in grado di tenere l'oceano lo capiscono subito perché sono barche tenute legate da lacci di cocco sono tenute con legno tenero per cui ripeto da veneziani che hanno visto come si costruiscono le barche nell'arsenale a Venezia dicono no qua non è cosa dobbiamo ritornare e dobbiamo ritornare via terra e qua si imbarcano in un viaggio pazzesco nell'attraversare le montagne del Pamir nell'attraversare montagne altissime dell'Afghanistan e del Pakistan in cui anche Marco Polo si ammala si ammala deve rimanere fermo un anno e solo dopo lungo tempo possono riprendere il cammino è un viaggio ripeto che dove loro vanno su quella che è la via della seta che è stata riaperta in qualche modo da questa pax mongolica che menzionavo prima cioè i mongoli erano ferocissimi si conta che Gengis Khan ha fatto decine di milioni di morti nelle sue conquiste però una volta che conquistava la cosa diventava assolutamente pacifica ed era tollerante per assoluto gli usi e i costumi dei popoli sottomessi e si diceva che una vergine nuda che portasse anche sul capo una cosa una corona d'oro poteva attraversare tutta la via della seta senza che gli succedesse nulla perché era appunto questo law and order di mongolico che aveva in qualche modo bloccato tutti questi paesi dell'Asia tutti questi paesi che andavano dalla Cina fino al Medio Oriente il Marco Polo in qualche modo segue anche non solo la via della seta ma anche la via di Alessandro Magno perché lungo tutti i loro cammini loro hanno tracce di queste leggende alimentate in passato dalle conquiste fatte da Alessandro Magno quindi li raccontano dei cavalli che derivano dal cavallo bucevolo di Alessandro Magno li raccontano delle popolazioni che derivano da Alessandro Magno li raccontano di dei vari mostri catturati da Alessandro Magno e così via quindi Alessandro Magno in qualche modo sarà un personaggio che accompagnerà questo loro viaggio parlano dei meloni dolcissimi con cui si dissetano lungo la via sono posti ovviamente assolutamente fantastici sono posti in cui appunto c'è la setta degli assassini tutta una serie di leggende legate a questo vecchio della montagna che istruisce dei giovani ad ammazzare vive in questo castello l'inebria e poi li manda li sguinzaglia per i vari omicidi vedono con i loro occhi tutte queste varie meraviglie si fermano nei caravanze e ragli lungo tutta la via bivaccano bivaccano con queste persone scambiano fanno dei dei traffici vendono gioielli e li ricomprano vendono pelli e li ricomprano e sono ovviamente affascinati da questi bazar orientali su cui loro da bravissimi mercanti si trovano in completo completo loro agio sono terre senza senza tempo ovviamente come diceva all'inizio Marco Polo nota tutto con un occhio da fotografo di National Geographic cioè lui osserva vede i costumi anche strani della gente lui li scrive senza dare nessun nessun giudizio c'è per esempio una storia gustosissima sulle donne di Camul lui dice questo è un paese accoglientissimo quando un viandante arriva i maschi delle famiglie mettono a disposizione tutta la casa mettono a disposizione tutte le donne la moglie le figlie i parenti ma c'è una virgola virgola purché paghi e dice questo senza nessun commento cioè è una cosa che lui nota e passa avanti cioè proprio come come un fotografo che non si azzarda a dare giudizi sui costumi di vivere anche sui costumi sessuali dei popoli che visita anche molto molto lontani da quello che lui conosce ripeto sono popolazioni e paesaggi senza tempo che lui conosce lungo la via e alla fine per arrivare al Katai devono fare l'ultima tappa che è la più la più feroce possiamo dire che è l'attraversamento del deserto del Gobi attraversamento in cui lui parla anche delle sabbie che parlano la notte e che inducono a smarrire il viandante che non è stato attento a non perdere nell'orientamento nel contatto con i propri compagni passa tutte le vie della battriana in cui vede degli animali a lui sconosciuti a parte degli enormi cammelli battriani si imbatte in questa capra che poi sarà battezzata in suo nome diciamo Ovis Polis è una capra dalle corna enormi che poi la gente del posto usa anche per bere o per per mangiarci dentro vede i cavalli liberi che erano quelli che avevano dato tutta la fortuna dei mongoli vede anche la caccia agli istrici che danno nei posti di montagna su cui la gente la caccia ai porcospini e così via conosce appunto i mongoli che cacciano con le acule con i grifoni iniziano ad entrare sempre più nella terra del Katai e qui giungono alla cattedrale del Kublai Khan qua incontrano finalmente il Kublai Khan i fratelli Polo già la conoscevano introducono il figlio Marco Marco diventa immediatamente il beniamino del Kublai Khan che usufruisce del suo tatto della sua curiosità per sguinzagliarlo in tutti gli angoli dell'impero che lui non ha neanche modo di conoscere ha conquistato ma non c'è neanche andato e in questo modo Marco Polo osserva tutti i riti e tutti i costumi della corte del Kublai Khan lasciandoci delle annotazioni che a distanza di anni ci permettono di ricostruire un po' tutta quella che era la vita a corte e qua c'è tutta quella serie di esagerazioni che poi hanno dato luogo al nome il milione almeno secondo alcuni interpreti secondo alcuni interpreti perché Marco qua ogni cosa sono milioni di portate milioni di bestie milioni di soldati milioni per dire diecimila portate undecimila aquile che si levano in volo quando il Kublai Khan va a caccia va a caccia su quattro elefanti e qua caccia migliaia migliaia di tortore migliaia di gru e poi fa delle scene pantagrueliche la sera dicevo Marco Polo va in tutti gli angoli remoti del regno del Kublai Khan viaggia lungo e largo in tutti gli angoli della Cina conosce le città della Cina che sono state recentemente conquistate dal Kublai Khan come sapete prima l'invasione mongola è venuta dal nord a conquistare il nord e poi ci ha messo lungo tempo e l'ha fatto col Kublai Khan conquistare anche il sud sconfiggendo la dinastia Song e dando luogo alla dinastia Nguan che nasce appunto col Kublai Khan ecco Marco Polo viaggia e riporta tutto questo al grande Khan va anche in posti bellissimi come Hanjū dove diventa dice lui governatore e vede tutto questo e rimane lì 17 anni 17 anni con questa serie infinita di viaggi di osservazioni di commerci almeno il padre e lo zio che accompagnano questo soggiorno quindi vede delle cose che nessun occidentale ha visto finora le memorizza possiamo dire e li trasportano diciamo saranno poi trascritte in questa cella genovese quando ritorna in Italia nella battaglia di Corsula viene catturato dai genovesi e portato lì quindi vede dei posti assolutamente unici nel Vietnam nel Yuan negli angoli veramente più remoti della Cina e qua c'è una cosa curiosa una cosa che viene imputata a Marco Polo dai suoi critici più acerrini parecchie persone mettono in discussione che effettivamente il Marco Polo sia mai andato in Cina cioè dicono ma com'è possibile se è andato lì che non ci ha mai parlato che le donne si fasciavano i piedi è una cosa che salta all'occhio subito o com'è possibile non ci ha mai parlato della grande muraglia cioè imputano al Marco Polo queste omissioni per dire guarda se non ce le racconti vuol dire che non sei stato poi tutti i nomi che Marco riporta nel libro sono tutti i nomi di origine più che altro persiana per cui l'accusa è ha orecchiato tutto questo stando sulle coste al massimo della rabbia ma in realtà non è mai andato in Cina beh la cosa può essere facilmente ribaltata perché innanzitutto lui ci lascia una descrizione assolutamente unica e precisa di Pechino e anche delle vie di Pechino degli Kutang come si chiamano è un po' tutta la disposizione della città proibita tutta la corte del Kublai Khan poi il fatto che i nomi fossero persiani perché il persiano all'epoca era come l'inglese oggi e il il fatto che lui non avesse notato queste queste usanze cinesi è perché i cinesi erano un popolo sottomesso non erano il popolo eletto dei Mongoli per cui non si mischiava effettivamente con i cinesi cioè i nostri occhi occidentali sembrano indistinguibili ma di fatto non lo erano per niente c'era una distinzione rigidissima tra le varie popolazioni tra le varie caste diciamo c'era la casta dei di coloro che avevano occupato e conquistato e la casta dei conquistati e due non avevano non avevano connessione l'uno con l'altro ci parla delle donne asiatiche e in particolare è per via di una donna la principessa Kokachin che loro finalmente dopo 17 anni riescono a tornare indietro il Kublai Khan da loro il permesso di rientrare a questo punto viene allestita una flotta l'idea era la principessa Kokachin doveva andare in sposa a un lontano parente del Kublai Khan che aveva richiesto di prendere in moglie una donna dell'antica tribù della moglie di Gengis Khan per cui aveva mandato degli ambasciatori dal Kublai Khan proprio per prendere questa fanciulla però un tentativo di andare via terra indietro in Persia fallisce perché è scoppiata una guerra quindi tornano e qua i veneziani Marco Polo diceva beh ci pensiamo noi possiamo andare via mare quindi il Kublai Khan a malincuore dal loro impermesso viene allestita una flotta imponente con decine di navi e migliaia di persone a bordo e qua fa questo viaggio pazzesco di ritorno che tra apparenze nel milione è forse la parte più bella perché si lancia tutta una serie di descrizioni dell'isola di Sumatra della parte meridionale dell'India con tutta una serie di costumi ci parla degli orangotango che lui dice sono degli uomini che vivono sulle montagne ma hanno la coda oppure ci parla di tutta una serie di personaggi che fanno parte del bestiario un po' medievale cioè persone con la testa con la testa di cane o che hanno un solo piede o che hanno la testa in mezzo al corpo e così via e narra tutto ciò insieme a mille altre battaglie che coinvolgono tutte le popolazioni locali e dopo un viaggio decisamente allucinante e l'aggettivo va sottolineato arrivano sulle coste dell'Arabia perché dico allucinante? Allora il Marco Polo ha un dono che è quello dell'understatement cioè lui ti dice delle cose incredibili ma senza nessun brivido cioè loro fanno un viaggio in cui partono in mille e arrivano sulla costa dell'Arabia superstiti in diciotto e ce lo dice così senza con nonchalanza che cosa sia successo nel mezzo non si sa non ci dice in dettaglio ma saranno stati i pirati saranno state le malattie che hanno dibellato questo grande numero di persone in ogni caso la principessa Cocacin è viva loro sono immerscibili come sempre arrivano sulla costa dell'Arabia qui arrivano in Persia consegnano la principessa si dirigono verso Costantinopoli e da Costantinopoli ritornano finalmente a Venezia dove non li riconosce nessuno perché hanno quasi l'aspetto dei tartari e qua nasce la leggenda che accennavo all'inizio di Ramusio perché Ramusio è quello che ci dice ci dà questa descrizione di questo loro ritorno e del fatto che la sera avessero dato una festa a casa perché dopo essersi sbarbati lavati puliti e così via tagliarono con un coltello le palandrane che avevano e da lì uscirono fuori rubini diamanti lapislazoli e quant'altro che erano tutta la ricchezza che avevano accumulato in Asia bene al ritorno Marco Polo diventa un eminente personaggio veneziano che sappiamo poi si sposa delle figlie e così via poi è comandante di nave nella battaglia navale che oppose Venezia a Genova battaglia che andò disastrosamente in cui Venezia ebbe una delle più sconfitte più cocenti di tutti i tempi Marco Polo fu portato prigioniero a Genova e qua è la fortuna di noi perché a Genova nella cella nel chiuso di una cella si dischiude invece questo grande universo asiatico con il racconto che Marco Polo fa il rustichello da Pisa e con la trascrizione dello stesso ecco qua io concluderei con questa con questa osservazione con cui in realtà si apre il nostro libro cioè il nostro libro noi immaginiamo perché questa è una leggenda ma è una leggenda che ha degli elementi di sostanza cioè come dire un'ipotesi plausibile noi immaginiamo che nel 1313 Marco Polo e Dante Alighieri si siano incontrati a Verona alla corte del Can Grande di Verona e la cosa è plausibile perché Dante era lì esule ospite e Marco Polo come dicevo era un personaggio eminente della Repubblica Veneziana con cui Venezia aveva dei rapporti con Verona e utilizzava il Marco Polo come ambasciatore per cui è molto probabile che si siano incontrati a Verona cosa si siano detti è tutto un altro discorso perché è un po' come il famoso incontro che ci fu a Parigi nel novecento tra due grandissime della letteratura Marcel Proust James Joyce le più grandi firme le più grandi penne della letteratura del novecento si incontrarono e non si vissero una parola e secondo noi è andata proprio così si sono incontrati e non si sono detti una parola due mondi bellissimi due viaggi straordinari ma in qualche modo inconciliabili grazie io vi ringrazio sono veramente piacevolmente stupita da questi bei viaggi che ci avete fatto fare anche voi con le vostre parole con le vostre conoscenze chiedo a questo punto se qualcuno degli utenti vuole fare delle domande ai due professori con cui siamo state in compagnia in questo bel pomeriggio se nessuno ha domande da fare a questo punto io ringrazio il professor Giuseppe Mussardo il professor Gaspari Polizzi e da domani la registrazione sarà visibile sul canale youtube delle oblate quindi se qualcuno l'avesse l'avesse persa lo trovate la trovate lì grazie e buona serata grazie grazie a lei grazie a voi grazie grazie buona serata arrivederci